Una maxi opera di rimozione della legna secca con potature di rami e abbattimento di interi alberi è stata effettuata su tutto il territorio del comune di Gossolengo in pochi giorni. Si trattava di esemplare i morti e disseccati da tempo e l'amministrazione comunale ha avviato i lavori per evitare cadute pericolose in caso di maltempo o di vento forte. Si è trattato di potature di rami secchi anche abbastanza imponenti che potevano essere pericolosi per la cittadinanza e il taglio vero e proprio di alcune piante che erano secche perché ammalate non tanto perché non siano state innaffiate come qualcuno ad ombra come dubbio semplicemente erano piante che sono state attaccate da una malattia e quindi sono seccate. Nessuna incuria da parte dell'amministrazione comunale, precisa il primo cittadino e sono davvero poche le aree pubbliche ad essere state risparmiate dall'operazione di pulizia. Tutto il paese, anche le frazioni dove sono stati rimossi anche lì alberature piuttosto che rami pericolosi che potevano appunto dare problemi. Il prossimo passo sarà quello della ripiantumazione. Abbiamo messo anche in programma per il prossimo bilancio di previsione fondi aggiuntivi rispetto all'anno passato come abbiamo già annunciato in consiglio comunale per la cura del verde, per la ripiantumazione, per tutto quello che riguarda il decoro umano.